Io sono Jes Inewolsen, la ditta è DNP Denmark, siamo ad Amsterdam alla fiera di Ease. Io vorrei raccontarvi un po' dei nostri nuovi prodotti che abbiamo presentato questi tre giorni. La novità più importante è la nostra Supernova XL Extra Large, riusciamo a fare un schermo unico, più grande, schermo ottico nel mondo, fino a 5 metri di larghezza e 3 metri di altezza. Lo facciamo con la nostra solita tecnologia di Supernova, è un schermo con guadagno 0,8 che ha un ottimo angolo orizzontale, il livello nero è al top. Poi abbiamo il nostro schermo dedicato per il produttore Ultra Short, STS lo chiamiamo, è fatto con una combinazione di lenti di Fresnel e lenti di lenticolare e siamo gli unici che riescono a combinare queste due tecnologie. Questo dà un'uniformità, un contrasto e una luminosità che non si può trovare in qualsiasi altra soluzione per i produttori Ultra Short. Abbiamo anche un nuovo prototipo per i produttori Ultra Short dove riusciamo a fare X-Blending. Quello che riusciamo a fare è un'altezza di 1,50 m e in larghezza quello che ci vuole, insomma, è un rullo che possiamo fare anche 10 metri se ce ne è bisogno. Il vantaggio è che si può fare X-Blending e usare più produttori e per esempio videoconferencing sarebbe un ottimo esempio dell'utilità.